ciao ragazzi bentrovati sul mio canale youtube allora è la terza volta che registro il video perché ho problemi audio con il mio pc solito per cui mi sono anche preso il portatile sto facendo un video proprio strano dal solito ecco però volevo portarvi questo video per darvi aggiornarvi la situazione diciamo allora sappiamo che ieri vi ho parlato di valutazioni 84 85 in primis che purtroppo non hanno avuto assolutamente ribassi nella giornata di oggi durante i premi della weekend league a causa probabilmente delle numerose spsi interessanti che ci sono attive per cui diciamo che resta molto valido il discorso investimenti sugli incontri principali e ho parlato del derby tottenham celsi e del derby di melbourne e è stato confermato da questo leak da questo rilascio di informazioni su canali twitter da utenti che diciamo solitamente ci hanno azzeccato per cui mi sono fidato e vi ho consigliato anche l'acquisto di un paio di giocatori esempio come davis e kovacic per farvi capire che tipologia di investimenti era possibile fare legati agli incontri principali come abbiamo visto per quanto riguarda i cheapest place by ratings quindi giocatori più economici per valutazione 84 85 83 sono attualmente molto alti per cui evitiamo di fare investimenti su di loro e potremo andare a concentrarci eventualmente su valutazioni 87 e 88 e adesso vi vengo allora innanzitutto perché vedete la scritta road to the final qui in alto semplice pare che venerdì quindi fra poco meno di 36 ore verrà rilasciato il secondo team road to the final che è un team dedicato alle carte ucl live quindi che le carte che ci accompagneranno fino alla fine dell'anno oltre chiaramente al rilascio delle icon prime dei pacchetti ma che non ci tocca più di tanto per un discorso di investimenti che stiamo facendo e sappiamo anche che la sfida icon garantita è in scadenza questo venerdì e io mi aspetto personalmente non che venga sostituita con un'altra sfida icon se non eventualmente rinnovata questa ma semplicemente mi aspetto che vengano rilasciate più sfide contemporanee che tengano alti i prezzi fino a fine dicembre perché dico fino a fine dicembre perché poi arrivo il team of the year sappiamo benissimo che il team of the year il toti porta un crollo generale delle card sul mercato quindi comprese quelle di valutazioni 86 87 88 utilizzate per le sbc siccome arriva road to the final mi aspetto alcune sfide giocatore road to the final quindi strada verso la cammino verso la finale si chiama in italiano per questo motivo e sono andato a farmi asta di un po di 88 a 27k i vari neuer ho preso qualche 87 fernandinho e alder weyred principalmente navas sotto i 20k e sono alcuni dei miei investimenti vi innanzitutto vi vi dico che è un investimento non certo perché chiaramente teoricamente finendo la sfida icon i prezzi delle 86 più dovrebbero ribassarsi però la mia ipotesi è questa quindi io ho fatto questo investimento in vista di non solo uccele live tramite sbc perché già abbiamo visto le sfide europa league live bensì anche in vista di altri footmask potrebbero arrivare come ad esempio il buon sisso co di cui già vi ho parlato quindi potrebbero essere investimenti anche direzionati verso verso questo movimento qua poi l'arrivo di più sbc contemporanea l'arrivo di del giocatore del mese della bundesliga che potrebbe arrivare domani il giocatore del mese del campionato francese uccele live footmas eccetera mi aspetto un rialzo di prezzi delle card 87 più perché attualmente hanno prezzi veramente bassi rispetto agli ultimi 15 giorni per lo meno perché gli 88 viaggiavano sui 30 31 gli 87 viaggiavano tra i 23 e i 25 a seconda dell'ibridabilità per cui secondo me è un interesse di esports portare i prezzi di queste card al rialzo in vista del toti in vista del team of the year dopodiché sappiamo che stasera escono gli conti principali siamo già a posto ne ho fatto gli investimenti una volta che è uscita la sfida possiamo andare a mettere in vendita le card a seconda dei requisiti che avrà la sfida a seconda dei delle squadre selezionate sappiamo che domani sera in arrivo le icon prime nei pacchetti spariranno le baby dovrebbe entrare il nuovo team road to the final che dovrebbe essere più piccolo rispetto a quello precedente potrebbe contenere circa 11 giocatori così come è capitato l'anno scorso che il secondo team che è arrivato a metà dicembre più o meno ci siamo oggi è 19 domani sarà il 20 dovrebbe essere nei pacchetti una settimana e dovrebbe essere molto più piccolo rispetto a quello precedente per cui questa è la mia situazione questo è quanto vi invito a dirmi la vostra nei commenti fatemi sapere cosa vi aspettate che requisiti potrebbe avere secondo voi il famoso sisoco footmas che vi ripeto secondo le informazioni trapelate potrebbe arrivare il 21 dicembre domani scopriamo appunto cosa ci aspetterà con il road to the final con le icon con tutte le sbc e soprattutto quello che più mi preme interessa è l'aggiornamento icona base cosa ci sarà dopo se ci sarà un dopo o se semplicemente verrà tolta e non sarà sostituito da niente vi invito ragazzi a seguirmi su instagram futiciato italia trattino basso trading iscrivetevi al canale youtube e non mancate di lasciare un bel like e iscrivervi oltre a scrivere il canale accendere la campanellina per non perdere tutte le notifiche buona compravendita ragazzi se non ci fosse altro ci vediamo domani con un nuovo video molto interessante dedicato alle sbc campionati per investimenti low budget budget passi ciao ragazzi e grazie